Buongiorno, anzi oserei di quasi dire buon pomeriggio, buonasera quasi, siamo gli italiani, io sono Francesco, sarò un tuo video, Romolo, io sono il protagonista del video, spero, come ti chiami? Romolo, di dove sei? Roma, 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 sorridi, guardami sempre, fai tutti i gesti che ti pare e divertite, grazie, a dopo, ciao! Ho le dirai fuori o niente? No, non te le dirò fuori! Dai, dopo, per tu sì, eh! Provì, abbassa piano quella porta! Ma dove siamo? Vi ha le palle tra? No, tolì, tolì! Ho pensato che qua, ho pensato con Monica, la sombra di 200 metri in casa, così. Non la cacca, ma la... Vai, eh! Quando vuoi! Quando vuoi! Ma non c'è l'unico, quando io mi metto a tagliare, ragazzi! Di me le mani! Ma che sta andando qualcosa, ragazzi! Di me la Veronica si è ridica da... Non devi mangiare la confinanzata, non devi puoi fare il suo lavoro, non devi puoi fare il suo lavoro, non devi mangiare l'uncino, non devi mangiare gli altri, non devi puoi fare... Ragazzi, mentre facciamo qua da vedere la free bag è la mia, cazzo! Oh, se vedere la free bag è la mia, eh! Prima devono trovare la mia, non ce l'ho provato! Ragazzi, come se noi messi un cazzo in casa! E stupido, come se più messere in proprio qui! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.